Covid nel Vesuviano, segnali di speranza da San Giorgio a Castellammare. Numeri che continuano a preoccupare Torre del Greco, dove sono 70 i nuovi contagiati, di cui due soggetti ospedalizzati e ristanti 68 in isolamento domiciliare. Un ulteriore decesso è registrato, un anziano di 81 anni. Si riscontrano inoltre 23 nuove guarigioni. Si riscontra un lieve calo dei contagi a Castellammare e di Stabbia. Sono 55 nuovi positivi su 315 tamponi effettuati e 47 le persone guarite nella giornata di ieri. Sono 16 i positivi che presentano i sintomi del virus. Piccoli segnali di speranza, scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco, che ci inducono a tenere duro in questo momento delicatissimo. Torre annunziata nella giornata di venerdì registrati 68 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono 90 i soggetti guariti. Un ulteriore decesso colpisce la città. Un ulteriore decesso colpisce la città. Si tratta di un 66enne dipendente comunale addetto alla manutenzione della segnaletica stradale. Il signor Apuzzo era una persona per bene, un ottimo dipendente, un lavoratore serio e capace. Ai suoi familiari vanno le più sentite condoglianze da parte dell'amministrazione comunale. Annunciata inoltre l'attività di screening dei cittadini per la riapertura imminente delle scuole. Sarà possibile volontariamente effettuare il test rapido per il personale docente e non docente e per i relativi familiari conviventi. La sede è designata per i comuni di Torre Annunziata, Bosco Reale, Bosco Trecase e Trecase e la palestra dello stadio comunale Girò di Torre Annunziata. I test saranno effettuati da mercoledì 18 a sabato 21 novembre, dalle ore 9 alle ore 13. Intanto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, rassicura i cittadini riguardo i controlli sul territorio. Il controllo delle forze dell'ordine è costante, ribadisce Zinno, e continua soprattutto ora che la campagna è entrata in zona rossa, con le nuove e più stringenti regole per i cittadini ed esercizi commerciali. Aumenta dunque il numero di verbali effettuati. Sono 50 i controlli nella giornata di ieri e 3 i verbali effettuati ad altrettante persone per essersi spostate senza giustificati motivi.